Una sfida tra due squadre che dopo un lungo e ottimo percorso si trovano già a giocarsi tutto dall'arena di Monza. Saugella, Monza, Igor, Gorgonzola, Novara, gara 2, semifinale scudetto playoff. Intanto ancora in ricezione, si salva però Monza, allora Beghi ha tutto braccio, il muro, poi la difesa di Washington che la tiene sul Correanco, che appoggia Bosette, il muro di Herman a Tireno. Care Washington, la difesa di Vanek che manda la palla di là, Meners con la mancina, tocca anche Herman. Gocce Lavarini fa entrare nella partita Elisa Zanetti al posto di Malmina, Smarcek in difficoltà in questo avvio di gara e a dire vero non solo. Chirichella intanto non chiude al centro, Orro da casa sua per Meners. Money out di Flor C. Meners. Entra Federica Squarcini per Laura Hermann in battuta. Ease, appena entrata. Murato da Chirichella, ancora Orro all'indietro, una palla difficilissima per Flor C. Meners. Che va a segno, che palleggio al S. Orro in questo caso. L'incessione per Beghi, c'è la pala si in penna alta, va poi ad attaccare la Bosnia qua, ma va a prendersi il muro di Washington ed è quello del 20 pari. Semifinale a Scudetto tra la seconda e la terza squadra classificata. Questo è lo spettacolo che può offrire Beghi, c'ha tutto braccio, una mano alla difesa di D'Alderop, poi Hancock per Bosetti. Non passa per l'intervento di Meners, poi parrocchiali la manda di là, frivol per Novara. D'Alderop, Hancock, va da Bosetti. Prova ad appoggiare sul muro, la Taherman dice no. 21, va a cercare l'angolo più lontano, bravo Bosetti a prenderla, Hancock appoggia dietro per Zanette. La difesa in tuffo di Vanet, che parrocchiale al S. Bagger per Meners. Diagonale vincente per Flor C. Meners. Finisce qua il primo set. Orro la tiene su per Vanet, che è il muro, poi la difesa sul profondo di D'Alderop. Ancora Bosetti, la difesa distinto di Vanet, che la manda di là immediatamente. Ancora Bosetti in pallonetto, Vanet, che la tiene su. Orro, palalta per Meners. Ricezione di Bosetti, ancora una gran ricezione. Per l'attacco di Washington. Carraro da fuoricampo per Begic. C'ha segno di Nabegic. Per le ospiti, la flotta tesa, ricevuta da parrocchiale. Troppo vicina a rete, anzi, di là. Orro in battuta, a cercare Bosetti. Ancora una splendida ricezione, una fucilata pazzesca per Caterina Bosetti, che giocatrice. Vanet, battuta, attesa. Non passa la rete, la palla. Finisce qua, pareggio Novara. Ancoc va da D'Alderop, il muro di Herman. Orro, poi la difesa sul profondo di Meners. Orro per Begic. Il muro di Malwina Smartcheck. La gran diagonale stretta di D'Alderop. E si rimette in moto Novara. Può solo appoggiare. Free ball per Monza. Orro va da Ortman. Sul profondo c'è Bosetti. Allora Battistoni per D'Alderop. Assegna Nika D'Alderop. Ventesimo punto. Anche lei, ex Sassuolo, chiude il set con un ace. La bordata di Ortman, ben ricevuta da Bosetti. Che poi va ad attaccare, ma c'è il muro di Vanek. A dire no. Mike Hancock. La ricezione di Begic. Con la palla e si impenna. Orro può scegliere, va dalla Bosniaca. L'autocopertura di Chirichella. Poi quel tocco, quel tanto che serve a Danesi. Ricezione di Begic. Poi Orro per Ortman. Dalla seconda linea. Che muro è andato a prendere D'Alderop. Si salva Saugella. Ma ci sarà Free ball per Novara. Hancock per Chirichella. A segno. 12 a 10 Novara. Problemi in ricezione per Meners. Negretti in bagara. D'altra parte del mondo con Ortman. Il muro, la difesa sul profondo di Herbots. Poi Hancock per Bosetti. Il muro di Danesi. Primo match point. Danesi in ricezione di Herbots. Hancock può scegliere, va da Chirichella. La difesa di Danesi è fuori. Novara invece è in finale. Chiude Chirichella.